Vediamo sti due va Eh li volete aprire io li apro Ma questa eh già inizia ne accalà buono Cioè buono per chi si deve comprare Non tanto buono perché c'è là Perché domani GamePampe non si sa Ah eh capisco Io ho Zidane Baby Eh in realtà sarebbe da aspettarli tutti Bello dai grazie a Bez Prime Gaming il 24 di gennaio Eh buono Che poi il 24 di gennaio c'è Che c'è sta Ogni centrocampisti che cazzo c'è stanno 24 Eh guardi Questo è buono per SBC In Bersuare e se se frulla C'è ne va 83 83 Quando me ne prende Digno Mid Boh io sta col fatto che sta nei pacchi Forse primo giorno dei Toti Vediamo un attimo come vanno Boh non sto pacco 83 più Oh no 383 gli ha dato Il grande Holland Mamma mia Ma per base è ancora valido secondo voi Porca troia che disgrazia Ma bello Ma beh che te lo regalano Però ma non mi sembra manco giusto Andar a fare una roba del genere Ci stanno Le SBC campionato in realtà Se ve le andate a vedere Che non costano molto alcune E danno dei pacchi ok Che se potrebbero fare in loop Il problema è che comunque dei crediti di sopra ce li vai a mettere Capite? È quello il problema La porta Elena Cerbi Abbiamo questi so proprio Capito Quei pacchi un po' così Che te prendi E tenendo tutti in capoccio I tre difensori che ci dicono Io ho 400 E presi a 7 Sì dovrebbe essere buono Se tocca sempre sperare che mettono Poi l'SBC La mettono da anni Non penso che la vanno a togli Onestamente Vai per aver fatto un botto di roba Ma se no Ha trovato un cazzo I toti venerdì Che poi ti dirò Uh Metse e scrignano insieme Manco male Io questo Lo lascere qui Però non glielo vorrei butta via Fammi provare Tu pacchi di questi qui Fammi vedere Che ne penso Ma che non aprirò neanche il tuo link Vabbè 81 più bandiera Ne è male comunque Oh ma che era Walker O Trippier Oh Walker 85 Il primo Buono da paura Sul caccao Un test come PSN Il primo Mia non si sente nulla No no Non si sente nulla Ciao G Grazie per Beats Io per te Più forte Broscog Piripipiripipirio Pippopuppo Pippopuppo Oh che parata ha fatto Quello a bene Né mobile Sti cazzi Adesso difensore Stai spingi Non è brutto Sti pacchi in sana Non so male Secondo me Fammi mettere tutto così Ecco questo Ma come difensore Ah perché è difensore E portiere Che in quanto si trova Un walk out Però Che walk out Mi sei trovi col cazzo Doppia gamma Tanto sull'altra Non mi avevi Sto tutto sbragato Io ho stato 1-5 In full champions Che consigli Ah De fermate Che nella settimana Ah chi era Appena trovato Tocca a scartarlo Tre attaccanti Fatti Sterling Benzema Magari attaccanti Troppo meglio Vediamo un po' Eri c'ha un drop Pazzesco Dibba che mamannato A meno che devo fanno pagare 300.000 al pick Ma non penso Dici quello migliore Attaccanti Che ci stanno 21 walk out E 77 orari L'altro Gli sono veramente Una barca invece Tutto sbragato Sì mi ha preso Un botto sonno Mi ha preso Un po' di sonnolenza Mi è venuta Ma se c'è brutto Sto pacco Che schifo Fammi provare Sto difensore Te credo Carte gameplay Fai uscisti 81 più Poi Vabbè che già stiamo Anni toti Quindi quelle gameplay Che lanci La gioco è quella A me non mi meraviglia Guardate 8 Con Puyol e Pichè Sì vabbè Ma tanto ne escono quelli Sono già decisi I toti Ovviamente Ma è un bene Che la community Non conti nulla Il voto della community Insomma Ci capiscono un cazzo Porco dio Per me potrebbero pure togliere Però ovviamente Gli fa La possibilità di votare Capito E' quello il discorso Vabbè Bono 84 Copaghi 2k C'è sta Per te Riali can Sono meglio Venderli in hype No quando escono Gli aggiornamenti Che se ne bruciano Un po' Iniziano a arrivare A 2-2,5 Se fanno Quei classici Aggiornamenti Rotti Eh Quelli sono buoni Quanto durerà Il pic Ma che poi L'anno scorso Mi ricordo Sul secondo account A una certa Sono andato in loop E ne ho fatti infiniti Fino a quando Non trovavo un toti Tipo Ma proprio Ma ha detto tutto Ma proprio questo Mi ha detto tutto Sì E' andata così Ho tornato a casa Con la panza piena Le palle vote Mi veniva da ridere Bomba Ah Vediamo che esce fuori E vado tanto Quando conviene venderli Oggi Beh In teorio Corpica Se dovrebbe alzato Se è prezzato bene Ottimaria Bono Nervi Nervi Nhe bombe Da tirano Da 40 metri Io conviene pagare quei crediti Io mi li so fatti Ovviamente quelli si paghichi i crediti Aprite le doti in te la primo Oh però ho già bandiera 87 Te dirò Mica male Mica male Quando ti saprà il vincitore del pot meligan Boh pare di settimana Una settimana e mezza buona Tanto dovrebbe vincere savenia Dovrebbe vincere un bop Che Mbappé ha fatto un guy in assist In un mese Anziché l'hanno messo nei candidati Vabbè però è perma bandiera Con stesso gameplay In online farebbe i sordi Che sa la gente che c'eva a giocare Cioè fai tipo artime team Si stanno a dormire stanno 59 di 7 e mezzo Vediamo sti oro comuni a quanto arrivano Se famo un'idea So io il primo Te credo Però a me ti rimette pure qui i giocatori lì Se no Capitan vola Secondo te può fare un esce Beh golla il 96esimo In teoria dovrebbe Se in teoria dovrebbe Ti capito che i dodi prendono un airdrop Lo abbassano sotto i piedi Che i pacchi che ce so A parte Uh Ti è Bu 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 Suarez Ai dodi airdrop Non lo vedi neanche Neanche lo vedi airdrop ai dodi Ma a parte che tu non vedi il drop ai dodi E dici Vabbè sti cazzi Tanto lo sai Ma poi metteranno Tipo ma quante Ma sai io Verò l'andarivano Ti ritirano Caffi Onda ti ritireranno Mo stanno a tirare un po' su Con sto pick Che icone Che è SBC Infatti oggi Un altro giocatore Potono troppo Ma chi è Karim Benzema Proprio lui Il grande Il grandissimo Il fortissimo Bella Benzema Ovvio Oh ma Stanno Oh ma gli attaccanti Troppano una cifra Suarez Benzema Vabbè Sempre bandiera Ma sono tutti S81 o più Attaccanti Insomma O gli eurocomuni Arrivano a 6.000 crediti E dici Vabbè Vale più la pena Io attaccanti 100 Mi faccio 100 pacchi Per i toti Mi faccio Giorno uno Mi vado ad aprire Se trovo un bappé Foto del cazzo A valbo Dai 6 del mattino E 3 del notte Quest'anno Stanno veramente A satanite E poi li vendono È quella che Mi preoccupa Che ha gente Che gli continua A dai toti Sai quanti cazzo Io li vendo Io 86 suar Ma io aspetto Nel picchietto Cioè un po' A meno che ne è apprezzata A 2 milioni In teoria Da fare Per i toti Oh Costano talmente poco Che magari Te ne fai 3 per reparto Ti tieni Per quando C'è stanni Oh tiè Bu 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 Eh mo se fermamo Però perché Non mi pare Wart E scartare Suarez Però Ha visto come Oh Mandrop Pazzesco 20 pacchi Qualcuno verrà Scartato Però sti cazzi Ma stasera Chi gioca Chi ce sta Juventus Sudinese Bergoletto De quadrato Un bel golletto De quadrato Ce vorrebbe Pulisic Bonner primo Out Fuori dai palle Best Setor Vinicius Culibba Certo Culibba Lì a otto È un po' Un peccato Ma vabbè Trovano uno scherzo Se te gioca bene Sti cazzi La squadretta Ci piace Eh va Verna Sparati 20 Sì A fe Grazie Per i tredici Belle Bentornato E dopo un mese Dal migliore Streamer Di Italia Ovvero Il Fason Mi ritocca qua Mannaggia Alla puttana A parte gli scherzi TVB Anche se mi si è fusa La play No Com'è fusa La play Rimane Andiere Rimane Assistenzo Immobile Milinkovic E Lazari Contra E pure Romanista E io pure Infanta C'ho Immobile Alberto Un altro Immobile Savic Un altro Immobile E Un altro Dalazio Sempre Vabbè Grazie Vedete C'è ben Tornato Vabbè Confermo Via La fazza Grande Streamer No Di bala Ce l'ho Cascato L'anno Scorso Ho fatto Quest'anno Voglio via Uno Che Qualunque Cosa Succede Può Casca Pure Meteorite Sulla Terra Me Segna Immobile Po Strapagato Però Mi sta Da belle Soddisfazioni Savic Sanno Deve Scitto Soprar Jolly Spero Almeno Se pausa Cento Pacchi Attaccanti Un Nemare Esce Potrebbe Gli sta Scarta Tutti Non Fatti 20 Cazzo Io Avvetto Ma Novantesimo Guardo Guardo Ma io Mi sembra Dov'e Staccare Devo Anno Nani Ma N'è Possibile Ma Poi c'ha Tutto Il gioco Scusa Come C'hai I premi Viper Zapata Non Scambiabile Ok Va bene Vai Viper Voglio Gioca Sul Mio Secondo Se c'è Sta Fantasia Che ne So Ciò Pato Ho Premi Icon Quanti Ne Mancano 12 Vabbè Tanto Gli Ado A Santi Luan Io Do L'account Aspetta Ma Mo Andiamo A Santi Luan Vediamo Un po' Capitan Capitan Barba Nera Questo Lo Scartavo Ma Mico Lo so Do Sta L'account Mo Gli Dico Se Me Gioca Vabbè Se Mi Gioca Viper E Meglio Perché Mi Ricordi Tati Dà Account Poi Mettere Gli Attaccanti E Fai Pac E Ancora Il Mio Terzo Io Se Calcolo Il Mio Terzo Non ce L'ho Mi Dispiace Di Sto Scarto A Tutti Mo Vabbè Che sto Giocatore A Scarto Però Nel Senso Griezmann Era pure Ok Ma Bruno Fernandez 1-0 2-0 Ma Perché Li apri ora Scialla Costano Talmente Poco Sti Cazzi C'è Provi Ma Che Te Frega Io Pure Un Po Mi Sare Capace Mi Apro Sul Secondo Ma Un Paio Così Goliardici Tranquillo Non ho FIFA No Vabbè Se C'è Vole Che Cazzo Me Frega Ma Per Terzo Account Mio Boh Se C'è La Rimanda Me Credenziali Che Magari Centro Sul Primo Non Giochi Sul Secondo No Che Andiamo A fare Ma Io Gioco Sempre Però Gioco Il Giusto Ho Bono Su Arezzo Walkout A me Devo Io Solo Neymar C'è Sta A fine Comunque Con Sti Pacchi Stai A Cercare Ronaldo Neymar Messi Mbappé Comunque Che Te Da Uno Desti Quattro Base Passano Tarmente Poco I Pacchi Che Ci Provi Ci Puoi Dice Culo Tanto Già Che Trovi Più Probabile Che Trovi Mo Che Trovi E Toti Mbappé Pedite Dici Vabbè Ma Contento Ter Base 100 Li Vorrei Fa 100 Li Vorrei Fa E Li Vorrei Aprire Al Day One Tipo Ai 19 Esce Cosa Apro Tutti I Pacchi Io Non So S' Aprirmi I Pacchi I Promo Tanto C'ho 100 Mila Fivapoint Tutter Team Onestamente Però Questi Li Aprirei Subito Invece Tanto Pure Che Mi Vanno In Fondo Li Posso Aprire Da Web Up A Steca Sti Cazzi Bo Aspetta Un Attimo 100 C'è Potrebbero Stato Alla Fine Pure Che Va Scartaroba Sti Cazzi Che Me Frega Te Posso Di Non M'Hanno Tanto Stuzzicato Però Ma Domani Vendi Sì Domani Vendo Gli 385 Ragazzi Se parlava De roba Dello Shop Non Se parlava De roba Incredibile Se parlava De robetta Nello Shop Se parlava Io ho trovato KK Prime Vendo Se non Usi Vendilo Che c'è Ti fa Buonasera Buonasera Io ho Bellingham Miff E' buono Sì Ben Builder Cioè Onestamente Potrebbe essere Buono Due mesi fa E' buono Se può usare Sì Può fare Una cosa Però Bellingham Non lo utilizzerei Ecco Oggi 48 Sì Ho paura Di crollare La scena Quello Sicuramente Ma Come Trovate Secondo Me Non è che Te si arzano A KK Prime